Saremo felicissimi perché è un ottimo punteggio, calcolando che giochiamo sui 30 punti. È un premondiale soprattutto proprio come dicevi tu, per vedere se gli esercizi girano, quindi sicuramente è meno importante il livello esecutivo perché in questo mese sarà proprio questo, ripulire l'esercizio, quindi dedicarsi in tutto e per tutto all'esecuzione, ma vedere se l'esercizio sia per le giudici, sia in pedana, sia per la ginnasta stessa, perché molte volte delle difficoltà o degli esercizi, dei movimenti vengono sempre in allenamento e non vengono mai in gara. Invece queste gare servono proprio per vedere se l'esercizio è a posto e gira e da adesso si ripete, ripete, ripete finché diventa un meccanismo ben oleato. La fune di Anna Bessonora. Una ripresa non proprio facile nel finale, ma Anna Bessonora è riuscita comunque a rimediare bene e ancora una volta incanta il pubblico. Anche perché questo esercizio a lei sembra che si sta divertendo tantissimo, è lì tutta sorridente e ballettante, mentre ne fa veramente, mi permetterei di dire, quante carlo in Francia, nel senso che fa moltissimi lanci.